Oggi 15 maggio a Vieste alcune strutture ricettive riaprono i battenti per la stagione turistica 2021. Siamo in una di queste aziende a Punta Lunga, siamo con due operatrici qui del ricevimento. Patrizia, come è iniziata questa stagione 2021? Ci sono richieste? La gente ha voglia di vacanza? Certo, la gente ha tanta voglia di vacanza e noi siamo pronti per riceverli. Cosa vi chiedono in particolare per quanto riguarda un po' le questioni della pandemia, il pass vaccinale, altre richieste? Quali sono le esigenze loro? Sì, chiedono cosa serve praticamente per poter venire in vacanza. Siano più gli italiani o gli stranieri quelli che vogliono più dettagli, vogliono chiarimenti o la voglia di vacanza è tanta? Ma veramente la voglia di vacanza è tanta, quindi i stranieri giustamente chiedono più perché per quanto riguarda la frontiera cosa serve per entrare in Italia. I italiani hanno solo voglia di venire a farsi la vacanza. Ci sono richieste in questi giorni? Tantissima richiesta. C'è anche Antonietta, la tua collega, dunque in questi giorni si riparti. Quali le impressioni che raccogli attraverso le mail, i contatti con i clienti? Quali sono le loro richieste, le loro esigenze, ma anche cosa si aspettano da questa vacanza? Si aspettano innanzitutto di poter finalmente godere la vacanza che hanno sempre desiderato e che purtroppo è stata a lungo rimandata. Quindi abbiamo delle richieste, vecchi clienti, anche nuovi clienti, nuove richieste. Ecco, rispetto allo scorso anno, sempre diciamo un periodo di pandemia, erano più timorosi lo scorso anno o quest'anno c'è differenza? Beh, io sinceramente questo timore non lo percepisco. Vedo che insomma hanno voglia, hanno voglia, sono stanchi e quindi vogliono farsi come dicevo prima questa vacanza, ovviamente con tutte le disposizioni, insomma l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal governo. Quindi mascherina, sanificazione, però questa paura non la vedo tanta. Il periodo di vacanza, almeno come richiesta, è più lungo dello scorso anno? Siamo sempre nelle stesse... Più o meno come l'anno scorso, qualche richiesta anche diciamo adesso a giugno per il momento. Ecco, per quanto riguarda anche il dettaglio, ci sono sempre più famiglie, è quella la nostra classica, il nostro target di riferimento o anche coppie giovani? No, no, abbiamo anche richieste di coppie giovani, oltre le famiglie diciamo, sì sì, perché il nostro è un villaggio abbastanza tranquillo, è meta di famiglia con bambini piccoli perché abbiamo questa bellissima baia con mare che degrada lentamente. Rispetto allo scorso anno voi vi sentite più tranquilli diciamo per questa stagione vista l'esperienza dello scorso anno? Sì sì, sicuramente sì, molto più preparate e più tranquille. Riparte una nuova stagione turistica, alcune strutture ricettive di Vieste hanno aperto, siamo con Anna, una delle addette a ricevimento al villaggio Spiaggia Lungua. Dunque riparte una stagione, di quella trascorsa cosa ricordi di positivo ma anche di negativo? Di positivo che comunque non ci si aspettava così tanto a flusso, insomma così tanta gente, è stata veramente una stagione caotica, è andata secondo me molto meglio del previsto. Negativo? Vabbè, che in realtà si diceva che il Covid migliorasse le persone, invece ho visto molta meno pazienza. Però insomma noi siamo qui per lavorare, quindi ci siamo armati noi di pazienza, abbiamo cercato di dare sostegno a tutti quelli che arrivavano, sprovvisti di qualsiasi conoscenza, soprattutto del bonus vacanza ad esempio, che è stato inserito a luglio, non è stato spiegato neanche a noi in maniera così perfetta. Però insomma ci siamo adeguati un po', ci siamo arrangiati. Parliamo invece di questa stagione, come riparte le sensazioni, la gente chiede dettagli o è più tranquilla rispetto allo scorso anno? La gente chiede molti dettagli, la cosa che chiedono di più è proprio quella per quanto riguarda la cancellazione, cioè se dovesse ovviamente trasformarsi di nuovo la Puglia in zona gialla o in zona rossa, arancione, insomma chiedono per quanto riguarda la caparra, quindi vogliono essere tranquilli su quella questione lì. Però insomma si vede che sta ripartendo, si spera riparta come l'anno scorso e richiamate ce ne sono come potete sentire il telefono squilla continuamente. Speriamo bene insomma per tutti, ecco questa è la cosa che posso augurare a tutti. Ecco, sono più ansiosi gli stranieri o gli italiani? No, in realtà più gli italiani, gli stranieri secondo me si avventurano. Ad esempio questa mattina abbiamo avuto il primo ingresso proprio di tedeschi, cosa che non ci aspettavamo, però è stato una specie di buon augurio per la ripartenza.